benvenuti cari amici di posti e pasti questa volta vi voglio far conoscere uno dei palazzi più prestigiosi della città di catandaro che è il palazzo dei nobili palazzo dei nobili è un palazzo nobiliare costruito nel 1784 come residenza dei baroni dei nobili il salone di rappresentanza è impreziosito inoltre da arredi d'epoca e da una serie di tratti ad olio che raffigurano i sindaci della città di catanzaro grazie